Sì, dopo ovviamente c'è il secco di netto, le favole, le chiamiamo le favole. Non li avevo mai visti questi parti? Poi c'è quello dei contenitori realizzato su 6-5 anni, sono in un'altra sezione, c'è in un'altra cartella. Scusami Stefano, le fotografie delle scatole che abbiamo fatto in quel negozio, perché non li ho avuto anni anni? Non ho capito cosa è. Le scatole quelle in lamiera, quelle tutte saldate. Non le ho viste, io però le foto su qua. Non c'è, queste cosa sono? Ah no, sono sempre Caccina. No, allora quelle lì non so. Shop, no, non c'è un cazzo. Shop, Slashow Web, Spiazzone, Trecchi, Caccina, no. No, non c'entra niente come. Shop e del Temporary Shop, però guardiamo. Ma i lab Paolo, forse come i lab Paolo? I lab Paolo sono quelle del primo, quelle su fondo scuro, quelle che abbiamo usato da proiettare a Trecchi. Le pecinissime che ci avete portato. Ma queste scatole poi vorrei dedicare anche qui una pagina intera o le metti nella pagina quella che abbiamo usato? No, metto nella pagina quella che abbiamo usato. Quindi aggiungiamo più scatole. Non so se magari non abbiamo scaricato tutto, però magari invece non c'è. Io per lì di foto non le ho mai viste. Ah, posso notarlo qua con il mio potente mezzo. Sì, ok. No, qua penso che le abbiamo viste tutte. Ah, no, è l'esterno Golf Club, però sono ancora le lampade ancora. Niente. Beh, diciamo che fotografie veramente molto molto belle non ce ne sono. Qualcosa c'è anche secondo me onestamente, tuttavia guardando in rete si vuole un intervento. Sì, non distruggiamo tutto perché lo spiagione, un po' buio, però sentire un po' sulla luce il contrasto, vengono belle, secondo me. Tuttavia io rifletterei comunque per fare qualche foto. Qualcosa ci vuole, sì, qualcosa di più ci vuole. Scegliendo magari solo i pezzi che decidiamo di mettere sul giornale o di mettere in evidenza sul sito. Io farei così, non so se vediamo, io imposterei sia il sito che la brochure con le foto che abbiamo. Tu lo vedi, vedi che cosa ti trasmette, se per te manca qualcosa, le facciamo, cerchiamo un certo modo di farlo. Cioè tu dici adesso utilizziamo il materiale che abbiamo e poi come secondo step. Magari poi a livello emotivo, l'impatto così, ti fa già un certo effetto usare questi qui. Adesso in vista questa è carina però anche molto lumbre. Cioè, sì, dunque non è una brutta foto, effettivamente se ti devo dire cosa trasmette sia un pochettino troppo scura, scura. Cioè non dà... Ma cosa che fa questo apprezzamento? Il video? Sì, il backstage per la realizzazione di Maydard. Però se non puoi usarla con vicino una pagina completamente bianca. Se c'è vicino una cosa che contrasta, sì. Se sono tutte così sembra veramente una veglia funebre. Vanno staccate, sì, vanno staccate in qualche modo. È importante documentare gli albori della... Sì, anche in Maydard dicevo. È dove nascono le idee. Adesso non dobbiamo vedere un attimo che effetto ci fa una volta che è tutto composto. In Maydard ha fatto tutta fine però adesso... E poi vorrei sempre spiegarmi il discorso qua della Torre, che cosa altro che diranno, che il progetto è storia d'Italia. Ah sì, giusto. Perché il progetto è... Il progetto è... E questo è proprio una roba da dove nascono le idee, che dalla Torre nasce il progetto. Storia d'Italia. Perché si fanno le torri delle varie città, poi. I torri delle varie città, con sotto l'ospirazione, possono essere contenitori, bim bumbam. Sì. Però si lascia a Siena, è ufficiale. Sì, mi sono trovato con... Che a quale si presta l'attore... Con... L'angelo Piazza della Camera. Andrea. Ah, sì. Solo che il problema, tra parentesi, è che... Allora diceva che Cremona si presta molto perché è una sorta di matita. Eh sì, eh sì. Se ci sono torri, tipo quelle di Siena, piuttosto... Se ci sono la Lunea che sono più difficili. Sono molto particolari, sono più difficili. Sì. Perciò la idea potrebbe essere quella di... Sì. In realtà, tutto questo... Sì. Perciò la fuga al forno, eccoci. Isci molto? Eh. Ok, ok. Ok. Sì. In 10? Sì. No, sì sì. Per te. Ok, qua. Sì. Ok. Ok.